vai 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 allaggini pochi bracci abbiamo facendo pochi comiti fatta set l'abitrone buono l'agnellino pasquale ora per l'acqua ora per l'acqua ora per l'acqua ora per l'acqua eeeh go eeeh go mamma mia eeeh 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 oma ca... ooooh eeeh 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 ooooh eeeh 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 vado a farlo, vado a farlo! arriva proprio a letto quando stai venendo un'opera un gioco che fa cacà come mai avevamo corretto? contro un'opera gli dacciavano in serie B mamma mia è Modric! mamma mia è Modric! mamma mia è Modric! mamma mia è Modric! aspetta! Luca Modric, no Mario Luis vai, 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 vai! vai, vai! guarda! 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 favoletti! ha colpito subito pareggio del Cagliari storie di attaccanti osimen prima, favoletti poi e storie però anche di ma signor favoletti ma voi pazziate facciate questo se difendere ma se azioni ci vanno colo favoletti c'è la signora ma non si coordina ma come c'è? ma guarda! palla larga di un soffio ma guarda! tu si fava! ho visto che gli hai fatto la palla non ho la re ho visto che gli hai fatto la palla ma stufano osimen! osimen! si coordina! ancora! osimen! eee! gaaaaaaaaaaaaaaaaaah eee! vicarà! vai! mamma! iesu! iesu! miesu! non ma non... sta pura di uno inizio ma è GOOOO! VALLETEE! c'ha mai fatto so attenzio! cos'è stato arrivato? ragazzi chiudìu nè 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 ma non lo fa dai cì Pavoletti! Pavoletti! Tu sei un quadro di quinta categoria! Ma non c'è un po' mica le anni, sai no! Arommanaggiai! 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 Fattenevi e scendevo a vostri! Mamma no! Arommanaggiai! Tu lasciare in debò! Con la c'è la mia ente margione! Arommanaggiai! 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 Guarda! 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 Non mi preoccupare! 12 minuti pure! Non mi preoccupare! Quando ci avresti i partiti ti smotto la pallorina con la ventina! Non mi preoccupare! Ci sono che si sta a fare il taglie! Anche prova di Iola! ehi! ehi! vai! pensa! io sono, papà, siamo bloccati noi siamo sotto natale ora non vanno bene un figo di cuore non vanno bene io mi pò battere a stu'vagare siamo quasi decidiare all'infartina ballerì ho fatto che ho messo tu una sangana ho fatto un brico del lango ho parlato, mandato l'abitro proprio a pannello ha bisogno di scandaloso scandaloso, stanno dicendo un po' due punti, due punti, due punti il gol è regolare il gol è regolare, perchè oggi non c'è zecca proprio niente per la tua ricetta che tutti ci hanno pagato ma io sono sempre un cattivere ma Piatravo, non voglio subito appena segnalare sicuramente, non c'è un nervosino che non è possibile noi facciamo una partita del genere mettiamo in vantaggio in un minuto e prendiamo subito la gola caro fondaniero tu fai una scelta e devi farle giocare ho queste card e dai guazzanoli non puoi giugare una coppa ma è l'ultima volta che ti ha visto ho queste card e zanoli sulla sinistra perchè non fai solo le figure di pupu ok? ok? dai dai raga dai ieri ma come aiuta aiuta aiuto ieri a me Ma preparo solo per Roma e poi... ...ce vorremmo che anche a Nile... Dai, dai, dai! Vai!